Cascata di Nardis c'è anche la fermata dell'auto wow bella è già stata da essere ancora più imponente Andrea oggi è il primo gennaio 2 gennaio 2018 2 gennaio 2 gennaio 2 gennaio 3 gennaio 2 gennaio 2 gennaio 3 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 gennaio 4 gennaio 4 gennaio 4 gennaio 5 gennaio 5 gennaio 5 gennaio Grazie a tutti